Di sicuro Matteo è un ottimo evangelista. Non so come se la caverebbe come scrittore di gialli, direi male visto quello che ci propone il Vangelo di oggi perché rivela il colpevole da subito. Si parla di Giuda e si dice subito che è il traditore. Si parla anche di Pietro precisando che è il primo ma poi non bisogna aspettare di arrivare alla fine per vedere quante volte Pietro si sbaglia e se si sbaglia il primo chissà gli ultimi, chissà cosa faranno gli altri. Insomma fin dall'inizio citando e recitando i nomi degli apostoli Matteo ci vuol far capire che dal primo all'ultimo da Pietro a Giuda non esiste una comunità perfetta. La comunità perfetta ce la sogniamo. Sarebbe la famiglia ideale, sarebbe la nostra parrocchia, il nostro gruppo sempre senza sbavature, senza niente fuori posto ma non è mai così. Non è perfetto neanche il nostro cuore che è un cuore confuso dove ci sono Giuda, Pietro e gli altri. Ed è meglio saperlo subito, sapere subito di vivere in mezzo alla confusione di noi stessi e alla confusione di comunità, anche la comunità sociale, dove non è sempre facile volersi bene. L'imperfezione segna il percorrere e il trascorrere dei nostri giorni ma avrebbe da dire che ho un'imperfezione benedetta, conosciuta dal Signore, che chiama non nel momento in cui siamo pronti o preparati, che vuol bene non perché siamo stati bravi. Prima ci vuole bene e poi ci invita a crescere così come possiamo, così come riusciamo nella contraddizione e nella fatica delle giornate. Pietro e Giuda sono in ciascuno di noi ed è bene saperlo subito. C'è la grazia della chiamata e c'è la vergogna del non essere capaci di rispondere, del tradimento, del rinnegamento, tutto dentro il nostro cuore. Gesù non sembra spaventarsene e invita costantemente, continuamente a seguirlo. Invita a guardare con serenità le nostre imperfezioni e le imperfezioni del gruppo di cui facciamo parte, della comunità che ci accompagna. Non lo spaventano, non gli impediscono di farci del bene e di volerci bene. Questo bene lo raccogliamo tutto all'inizio di questa giornata. Buon viaggio, buona giornata a tutti.